Musica Primo concerto al convitto nazionale di Arezzo dell'orchestra instabile, in questo caso un concerto con gli ottoni, Raffaele Chieli, Maria Rossi, Emanuele Butteri, Niccolo Pontenani e Duccio Nocchi. Sì, è la cantata Ship May Safely Grace di John Sebastian Bach, per andare a un pezzo originale per Quintetto di Ottoni di Michael Kamen, un pezzo americano del Novecento, e sì, sempre per rimanere in tema America, un arrangiamento del nostro cornista Emanuele Butteri, della famosissima canzone My Way, cantata da Frank Sinatra. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS